Anas e Gruppo FS italiane ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri 5 bandi di gara d'appalto per l'affidamento di lavori di manutenzione programmata della pavimentazione su tutte le strade statali della Calabria per un valore complessivo di 25 milioni di euro. Nel dettaglio si tratta di 5 gare da 5 milioni di euro ciascuna che saranno affidate mediante procedura di accordo 4 di durata quadriennale. Tale procedura consente di eseguire i lavori con tempestività nel momento in cui si manifesta il bisogno senza dover espletare ogni volta una nuova gara di appalto consentendo quindi risparmio di tempo e maggiore efficienza. I 5 bandi per la Calabria rientrano nella settima tranche del piano Basta Buche avviata oggi per un valore complessivo di 380 milioni di euro a livello nazionale che consentirà il risanamento della pavimentazione su almeno 5 mila chilometri sulle arete ANAS in Italia incluse le strade rientrate in gestione all'azienda degli enti locali nel corso del 2019. Contestualmente sono stati pubblicati 3 bandi di gara d'appalto per l'affidamento di lavori di manutenzione programmata della pavimentazione sull'autostrada 2, autostrada del Mediterraneo per un valore complessivo di 15 milioni di euro. Grazie a tutti.